Senza stranieri, pochi ombrelloni, grandi spazi, molte famiglie, pochi giochi per i bambini, tanta tecnologia. Si tornerà così in spiaggia nell'estate 2020 del coronavirus, ma bagni e lidi saranno molto diversi da come li abbiamo lasciati. Il testo sull'estate al mare ormai è pronto e ritornano le gite in barca, ma non il noleggio e gli attracchi sulle isole, né il sole in spiaggia per chi arriva dal mare. Il distanziamento sulla costa dovrà essere rispettato anche in acqua. Si chiede di favorire la prenotazione tra percorsi e corridoi di transito differenziati per direzione. E in caso di brutto tempo sui lidi e anche di pioggia vanno previste misure anti-assembramento. La distanza minima tra le file di ombrelloni sarà di 5 metri. Comunque sia lettini che sdraio che sedia dovranno essere ad almeno 2 metri dall'ombrellone più vicino. Per le spiagge libere si chiamano in causa gli enti locali. Dovranno definire puntualmente le modalità di accesso e di fruizione. Le regole sulle distanze sono esattamente quelle degli stabilimenti. Stop agli assembramenti sulla battigia e saranno assicurate la pulizia e l'igienizzazione delle zone. Intanto a Borgo Marinai, in pieno centro a Napoli, dopo due mesi di lockdown, si torna pian piano alla normalità. Negli anni passati di questi periodi già avevamo un grosso affollamento di bagnanti e di movimento sul porto. Questo ancora non c'è. Attualmente siamo ancora in una fase di stand-by, ma non siamo totalmente fermi come eravamo sicuramente dieci giorni fa.